La parabola che Gesù racconta dell'uomo ha un colpo di fortuna in qualche modo e ha dei beni talmente abbondanti da pensare smetto di lavorare e me la godo per tutto quello che viene, gli anni che verranno e nella parabola Dio gli dice stolto questa notte stessa mentre stai facendo questi ragionamenti ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà e la parabola è detta fra due fratelli che litigano sull'eredità che un padre potrebbe essere questo e quello che gli ha lasciato il che vuol dire che l'eredità che si lascia ai figli di terre o altro nella maggior parte dei casi è più un motivo di litigio e di contesa che non di grazia perché quello che divide i fratelli è la cupidigia ma è la stessa che hanno ereditato dal padre perché il padre dice ne è abbastanza smetti di lavorare di faticare goditi la vita quindi la stoltezza dei figli ricalca la stoltezza dei genitori perché in fondo si combatte per dei beni materiali di chi sarà di chi sarà anche perché alla fine di mano in mano tutti quanti quelli che sono passati sulla terra è come un fazzoletto di terra dove noi viviamo quanti ne sono passati prima quanti ne verranno dopo litigeranno per lo stesso fazzoletto di terra che in realtà non è di nessuno parliamo di famiglia ma poi anche le famiglie si estinguono in realtà ogni singolo individuo è di passaggio su un pezzetto di terra per un certo tempo e l'attaccarsi a questa terra è la stoltezza la sapienza invece è chiedersi perché sono qui e dove sono diretto non è così che san paolo nella lettera ai romani parla della fede di abramo ed è la nostra stessa fede nel cristo risorto che ci promette i beni eterni cioè la resurrezione non c'è nessuna prova materiale di questo se non la fiducia nelle persone che lo hanno visto e lo hanno annunciato a noi come anche abramo non aveva nessuna prova della visione e delle parole che riceveva da dio non aveva un altro che gli dicesse sì è vero no è falso così anche noi abbiamo un intuito interiore che è l'organo della fede l'organo deputato a credere la parte spirituale che riconosce la verità in quanto tale perché dio la presenta è una capacità di conoscenza di adesione alla verità che viene dall'alto allora viene dall'alto la notizia sono qui per salvarvi per mettervi per l'eternità e mettervi nel mio regno ma al tempo stesso ci viene donata la fede che cos'è la fede è quella virtù si chiama teologale perché è dono di dio e che noi non ci possiamo dare quindi non è una fiducia umana che ci fa rispondere rispondere con fiducia con assenso alla parola di dio e nel profondo del nostro cuore noi diciamo signore io credo a chi è stata data la fede a noi perdono viene data come virtù nel battesimo e poi sta a noi svilupparla metterla in atto ogni atto di fede aumenta la fede san pietro dice signori ho fede ma aumenta la mia fede e gesù li rimprova una volta anche san pietro è fra questi gente di poca fede pietro perché hai dubitato no e quindi è un esercizio difficile quello della fede però in realtà è possibile dicevo non è una virtù umana quindi non è che si crede a dio come noi crediamo le cose di cui noi siamo convinti ma si crede a dio perché dall'interno dell'anima nasce una adesione più profonda che va oltre anche quelle che sono le aspettative umane allora noi seguiamo il detto no meglio un uovo oggi che una gallina domani no e che vuol dire finché sono qui su questa terra intanto lotto per la terra dopo vedremo invece c'è una conseguenzialità fra ciò che facciamo adesso su questo fazzoletto di terra per questo breve tempo che la nostra vita è la vita eterna non è che è indipendente a seconda di come tu hai rivolto l'animo alle cose della terra o hai sviluppato questa fede questa fiducia in dio creatore salvatore il tuo destino viene segnato quindi la vita qui sulla terra è importante perché si impara a credere si impara ad amare dio si impara a trattare i beni della terra non come nostri ma come di passaggio altri milioni di persone come prima di noi probabilmente ci saranno nello stesso posto in questo stesso in questo stesso spazio che stiamo vivendo adesso non è nostro questa sapienza dunque ci fa guardare a questa cosa con con distacco e al tempo stesso ci fa dire signore cosa posso fare di buono per entrare nella vita eterna è la domanda che fa il giovane ricco e il Signore gli dice e questo non è una parabola segui i comandamenti ah li seguo tutti però hai il cuore legato alla terra sei contento delle tue ricchezze questo ti non solo ti fa star bene ti dà come dire certezza per il futuro ma anche ti fa sentire benedetto dal Signore se sei a posto e per te il regno è quello che stai vivendo qua sulla terra allora a lui il Signore dice ma lo può dire a miliardi di persone vai vendi quello che hai dallo ai poveri poi da povero seguimi staccati da tutto quanto e il giovane se ne andò triste perché aveva molti beni no quanto difficilmente commenta poi il Signore un ricco potrà entrare nel regno dei signori ma niente è impossibile a Dio è difficile perché noi difficilmente ci stacchiamo da queste certezze i poveri che non hanno nulla o hanno poco sono abituati e quindi si fa come si dice di necessità virtù a contare sulla provvidenza sulle piccole cose per poter sopravvivere giorno dopo giorno no e hanno solamente Dio come speranza paradossalmente se il cuore è buono uno che è nel bisogno ha più possibilità di sviluppare la fede chi invece ha delle ricchezze anche se crede in Dio non ha un atto di fiducia in Dio ponde la sua fiducia sulle proprietà sul conto in banca sulle certezze materiali e questo uccide la fede che non è guardate bene io credo in Dio non credo in Dio ma mi fido di lui in ogni situazione mi lascia condurre e io dove voglio andare non è il posto migliore qua sulla terra quanti turismi che ci sono no perché dobbiamo vedere assolutamente i posti più belli e più frequentati del mondo ma il desiderio è quello di entrare nel regno dei cieli che ha questo desiderio nella purezza questo verrà pregnato perché il cuore si è dilatato in questa speranza ecco perché è importante questo breve tratto di vita qui su questo fazzoletto di terra dove tanti sono passati anche noi passeremo e che cosa facciamo del nostro cuore come lo coltiviamo a qual è il nostro orizzonte o direbbe san paolo qual è la nostra speranza la vita eterna la vita nella nel regno di Dio se lo dato Gesù Cristo grazie